Don Luigi, un richiamo all'aspetto cristiano del Natale, che è l'essenza vera del Natale. Ecco, lo facciamo qui sotto quest'immagine, che adesso è solo una metà, perché è solo il verde. Quando sarà accesa la luce, diventa il simbolo del Natale vero, perché vicino a questo albero ci dovrebbe essere l'immagine reale che porta la vita simboleggiata dal verde dell'albero e la luce per la nostra mente, per la nostra vita, che è la parola di Dio con le luci accese. All'infuori di questo l'albero da solo non significa niente e questo mi ha fatto venire un'ispirazione particolare di mandare un messaggio ai negozianti, perché hanno tutti i negozi circondati di verde e di luci alla sera. È un piacere vederli, ma guardi in giro cosa c'è, tutte cose che lo riguardano il Natale. Ci vorrebbe che quando si illumina quei negozi ci fosse almeno un bambinello messo bene in un cesto illuminato che riguarda quel Natale lì. Allora quello porta il vero significato, no? Ma invece si è fatta una gran pubblicità delle cose che riguardano il contorno del Natale, più le nostre feste, che in realtà è una favola. Gesù invece è la verità. Noi cristiani abbiamo rubato il bambino di Gesù per metterci una favola. E i bambini crescono sotto questa favola. Che cosa diranno? Dopo ci lamentiamo perché da giovani non vanno più in chiesa, non credono più niente. Quindi è importante riscoprire questa realtà che dà valore a tutti gli altri significati apparenti che ci mettiamo intorno. Quindi questo messaggio io lo lancio, dato che ho questo messaggio qui per i negozianti. faccio gli auguri grandi, ma anche loro devono fare il Natale di Gesù, che ci sia sempre scritto. Che ci sia quindi sotto l'albero una rappresentazione del presepe, perché albero e presepe insieme devono... Insieme, insieme, anche nelle famiglie. Ho fatto l'albero, dicono i bambini, quando era a scuola. Mettici magari piccolo, piccolo, o anche una cartolina col Gesù bambino, il presepe di Gesù. L'ho trovata i giorni dopo, perché quello dà significato all'albero, il vero significato dell'albero.